di qua cosa c'è da fare di qua ho trovato di qua Ok, ok. Sì. 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 Non c'è tutta la macchina. Vedi che c'è qualcosa? Ti piace? Non c'è tutto il nostro. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è tutta la macchina. È un po' di mezzo. ah ok ho capito devi devi si ok ho capito andiamo prendiamo un altro assistente dai ormai per lui fa per 4 ho visto per qualcuno che sta combattendo di qua andiamo di qua oh 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 andiamo al salvapar sovito andiamo andiamo al salvapar e si asistono quello di e va 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 o anche questo cosa da buoni troppo ai va bene dove sei va e ok siamo a troppo steggi va e già dentro giù 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 guarda giù giù e ma le ve le a me mi piace la pompa va 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 che sei andiamo che c'è lì dentro qualcuno che sta combattendo di qua questo qualcosa di nuovo questo è lì? ok è lì è lì è lì 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 lo va oh 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 Vieni, vieni, vieni Qua ci sono ancora un altro E qua 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 Andiamo, andiamo, andiamo Andiamo Cambiamo la macchina dai, cambiamo la macchina Via È lì Andiamo, andiamo, andiamo È lì, 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 papà, papà, lì, lì, lì È lì, lì, lì... Hai visto? Escapato la bavara dai tu andiamo dentro siamo qua dentro cerchiamo la macchina non c'è nulla è lì è lì è lì è lì Listo è tutto tu c'è col sniper babano vieni vieni si si ah ok 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 no 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 sono nuova vedete ok 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 qui c'è un'altra macchina eh si dai andiamo 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 questo qua perché questo cioè possiamo fare anche in quattro allora dovete assistente assistente andiamo e 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 ah facciamo facciamo la mordì e altra macchina preso preso andiamo preso e 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 mi piace questa qua ok questa è la più bella no un attimo eh un attimo che voglio fare capito che devo prendere ecco qua ok e la macchina c'è qualcuno c'è qualcuno vieni 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 dov'è e e andiamo lì e 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 c'è qualcuno c'è qualcuno va e che qua indietro qua quasi uno di qua va 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 indietro c'è mancano cinque e e altro un attimo che ero caduto cerchiamo la macchina dove dove sei dove sei ok 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 vieni qua vieni qua vieni qua adicol uoooooo ca è morto morto vieni qua 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 come on barra vieni qua con la macchina barra barra vieni 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 barra vieni usata sembri vieni 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 bravo vieni a vieni sei la mia barna con una barna scondi è trovato dovevo bar guarda che c'è un'altra macchina va a do' di là dentro la macchina dentro la macchina cerchiamo dove ok si ecco è morto da solo hai visto